Se tu sei un estroverso, è come se iniziassi la giornata senza monete. Tu esci, hai delle interazioni sociali e ogni interazione sociale ti dà una moneta, ti dà un'energia, una vita, diciamo, se stiamo parlando di Super Mario. Alla fine della giornata tu sei pieno di soldi, sei pieno di monete, sei felice, sei contento. Se tu invece sei un introverso, inizi la giornata pieno di monete, pieno di soldi, vai fuori e ogni interazione sociale, ogni scambio, ti fa perdere, ti fa pagare un soldino. E alla fine della giornata sei senza soldi, sei scarico, hai bisogno di ricaricarti. Benvenuto a Pensa che ti passa, un podcast per gente curiosa. Parole e opinioni non richieste su come diventare la miglior versione di noi stessi. Siamo Matteo e Tommaso e quando abbiamo voglia facciamo quattro chiacchiere su quello che ci passa per la testa. Quotidianità, paure della nostra generazione, intelligenza emotiva, pensieri, parole, opere o missioni. Benvenuti a tutti a questa diciottesima puntata di Pensa che ti passa. Siamo appena diventati la giornata. Siamo Maggioreni! Faremo un festino. Viaggio di maturità. Della nostra festa di 18 anni. Scuola Zò. Siamo contenti di questo piccolissimo traguardo. Stiamo cercando di mantenerci costanti, anche se come avete notato questo mese abbiamo un po' rallentato. Matte è tornato in Italia, abbiamo avuto il tempo di pensare a alcune cose, però non abbiamo avuto l'occasione di registrare, nonostante fossimo insieme. Quindi abbiamo deciso che questo podcast deve avere una distanza minima di mille chilometri per essere registrato. Però non funziona. Esatto. Oggi parleremo di un bellissimo tema che ci tocca da vicino, che è l'introversione e l'estroversione. Una cosa su cui ci siamo confrontati spesso, la sensazione di essere introversi, ma invece il fatto di essere oggettivamente estroversi o viceversa. Ed è un tema che Matte ha approfondito e in cui mi ha poi coinvolto, perché ci sono davvero molti, molti, molti aspetti di questa caratteristica. Esatto, e poi soprattutto uno di noi la vive in maniera diversa, no? Esatto. E niente, oggi ne facciamo una panoramica un po' più tecnica, abbiamo visto qualche approfondimento, come diciamo sempre non siamo dei professionisti del settore, ma cerchiamo di informarci e poi di dare una nostra opinione. Bene, ci farebbe molto piacere che ricevere i vostri commenti, lo fate già in molti, ci mandate degli audio su Whatsapp, ma noi vi ricordiamo che abbiamo anche il nostro gruppo Telegram, a cui vi potete iscrivere al link in bio sul nostro Instagram. E vi ricordiamo anche di mettere il follow su Spotify, in modo che ogni volta che esce, che uscirà un nuovo episodio, Spotify ve lo propone, insomma. Poi chiaramente se volete inviarci dei messaggi in direct su Instagram, volete commentare le storie, noi siamo sempre molto, molto, molto contenti di rispondervi appena li vediamo, perché poi quelli di solito dovrei leggere io, ma io sono un po' perso nel nuovo. Occupato. E un'altra cosa che cominceremo a fare, che ci hanno consigliato, che in realtà avevamo già cominciato a fare all'inizio, è quella di ricominciare a chiedervi le vostre opinioni prima di registrare un episodio. Oggi purtroppo siamo trovati un po' all'ultimo, però per i prossimi l'idea è quella appunto di coinvolgervi di più. E niente, adesso passo la palla a Matte che ci spiegherà un po' quello che è il viaggio di oggi. Come ha detto benissimo Tommy, noi non siamo psicologi, psichiatri, esperti né niente. Cerchiamo di informarci il più possibile quando ci riusciamo, perché delle volte andiamo anche abbastanza a braccio. E questo tema è molto interessante secondo me un po' per tutti, perché tutti abbiamo pensato almeno una volta a questo discorso dell'introversione e dell'estroversione. Tutti ci siamo chiesti o ci siamo sentiti più in un modo rispetto che in un altro, no? Praticamente cercando di leggere un po' in giro varie definizioni e facendo un quadro generale, principalmente la differenza fra un estroverso e l'estroverso è questa. Una persona estroversa è una persona che tende a essere più proiettata verso l'esterno, quindi ricerca frequenti interazioni sociali, è tendenzialmente molto attiva e trae gioia, beneficio e anche energia da quello che avviene all'esterno, dal sentirsi attivo, dallo scambiare tempo e discussioni con gli altri. Una persona introversa è una persona che tendenzialmente invece è l'opposto, quindi preferisce restare da sola, un po' più riflessiva, un po' più proiettata verso l'interno e si ricarica invece, magari si sente un po' più, sente le sue energie un po' più drenate quando è in compagnia di molte persone e si ricarica ed è più felice, diciamo così soddisfatta, quando sta più con se stessa, può riflettere e può prendersi del tempo per se stessa. Ma è tu, Matteo, a quale categoria ti senti di apportenere? Bravo, questa era la domanda che volevo, bravo. Allora, io ho sempre pensato, allora, secondo me intanto, non so se poi sia vero a livello scientifico questa roba qua, però secondo me è una condizione anche che evolve un po', perché tutti secondo me abbiamo una caratteristica innata. Ma fermo. Non ho competenza neanch'io e non ho, però per la mia esperienza, poi ti dico la mia, assolutamente. Vero, perché tutti magari abbiamo una componente un po' più innata, c'è l'espansivo estroverso proprio di suo dalla nascita, c'è l'introverso chiusissimo dalla nascita, ma poi un po' si cambia in base a quelle che sono le esperienze e gli avvenimenti che ci capitano nel corso della vita. Io mi sono sempre sentito, fin da piccolo, molto espansivo, estroverso, molto proiettato all'esterno, però con gli anni, quindi fare, fare, parlare, parlare, sparare cazzate, essere molto, diciamo, verso il fuori, Non ho mai, da piccolo e anche fino a non troppi anni fa, non ho mai apprezzato veramente il fatto di stare da solo, la gioia di stare da solo e anzi lo stare da solo è con me stesso, mi è sempre creata una certa ansia, nel senso che noia, un senso di non sto buttando via tempo, non sto facendo niente, no? Non, magari penso anche troppo. Cercavi sempre le interazioni anche con gli amici, magari con gli amici, cercavo sempre le interazioni, cercavo, esatto, cercavo sempre le interazioni e di essere anche sempre occupato, hai capito? Che poi l'essere occupato costantemente è anche una maniera per non pensare magari alle cose. Crescendo, ma non tanto crescendo in generale, quanto soprattutto negli ultimi, direi, due slash tre anni, mi sento in maniera completamente diversa. Allora, da una parte in realtà io mi sono sempre sentito introverso dal punto di vista della timidezza, perché io appaio come molto espansivo e molto estroverso, ma poi in tante situazioni io mi faccio bloccare dalla timidezza, sono molto insicuro, sono molto sul chi va là, diciamo, soprattutto in alcuni tipi di interazioni sociali specifiche. Però negli ultimi anni mi sono scoperto molto più introverso di quello che pensavo, nel senso che ho imparato molto più a stare da solo e ho capito che mi piace tantissimo. E tante volte, nonostante io ami stare con le persone e fare un sacco di cose, eccetera, eccetera, quando mi sono caricato in maniera abbastanza prepotente di questa componente sociale, diciamo, e attiva, sento proprio quel bisogno di staccare con il mondo, stare da solo, non parlare con nessuno, fare una cosa che è totalmente mia e in cui ci sono solo io, perché proprio mi devo ricaricare. Cioè, sento che ho dato, ho buttato fuori tutto quello che avevo e adesso ho bisogno di riprendere. E non mi ero mai sentito così prima, ma negli ultimi due o tre anni veramente mi sento così e quindi inizio a dubitare se sono effettivamente un estroverso del tutto. Ci sono stati degli eventi particolari che ti hanno fatto, che hai sentito, che ti hanno aiutato in questo cambiamento? Sì, sì, sicuramente, beh, quando ho lasciato il lavoro in Germania, che c'è stato un momento un po' di dispaesamento, non sapevo cosa fare, in quel momento lì, appunto, quando sei disoccupato, poi gli altri lavorano, hai tanto tempo per pensare anche a stare da solo. E poi il viaggio che ho fatto in sud-est asiatico da solo, anche quello è stato un bellissimo banco di prova, pauroso all'inizio, perché io, appunto, non sentendomi così prima, avevo paura di andare via da solo. Sappiamo che i cambiamenti fanno sempre molta paura. I cambiamenti fanno molta paura, però è stata una delle cose più belle che avessi mai potuto fare, sia a livello di esperienza, che è stata bellissima, ma anche proprio a livello di buttarti in qualcosa totalmente da solo, senza dover dipendere da qualcuno, ma soprattutto senza dover per forza condividere qualcosa con qualcuno e sapere che qualcuno c'è. Cioè, prendere atto del fatto che è molto probabile che tu per gran parte del tempo puoi restare da solo, che tante volte spaventano. Però lì è forzandoti a stare da solo che capisci un po' meglio quanto è bello, effettivamente. Sì, sono assolutamente d'accordo. Tu invece come ti definiresti da questo punto di vista? Allora, io sono sempre stato una persona molto introversa, in realtà, fino, credo, alle superiori. Me lo ricordo. E invece poi, in realtà, quando ho cominciato all'università anche, poi il lavoro mi ha dato una scossa non indifferente, nel senso che quando ti ritrovi a dover vendere te stesso, capisci che essere introverso non è una cosa che premia minimamente. Quindi, inizialmente, diceva che sono una persona introversa e sono così e basta. Quindi non cerchi neanche di un cambiamento. Quando poi capisci che l'essere estroverso può essere una risorsa, ti cerchi di avvicinare, cerchi di far di tutto per essere proattivo in una discussione, il fatto di dover per me conoscere delle persone e in un'ora diventare più o meno confidente e, tra virgolette, poi vendergli un servizio, mi ha aiutato in questo mutamento. Claro, perché tu, praticamente, quando dovevi incontrare le coppie di sposi per potenzialmente diventare loro fotografo, dovevi anche vendergli la tua personalità e il fatto che tu eri capace di fare il tuo lavoro e... Ma metterli, la difficoltà più grande per me era metterli a proprio agio, cioè conoscerli, essere proattivi in una discussione, quindi i silenzi erano sempre da riempire, capisci? In questo modo diventi, vuoi o non vuoi, comunque più estroverso. Poi ho fatto dei corsi, tra virgolette, di vendita in cui ti insegnavano come dover parlare, quindi evitare le negazioni, essere sempre comunque proattivo alla discussione, avere un atteggiamento sempre positivo. Ecco, questo e anche ad altre persone che poi, con cui all'epoca lavoravo, mi hanno aiutato a capire che essere, appunto, conoscere persone comunque è sempre, non sempre, ma nella maggior parte dei casi utile. Le conoscenze, soprattutto poi in Italia, sappiamo che ci possono aiutare. E quindi per me quello è stato l'evento scatenante che mi ha aiutato ad uscire. E mi ha dato, questo mi ha dato molta, molta, molta sicurezza. Quindi io adesso sono molto più capace di trovare una persona e comunque essere, di averci un confronto. Proattivamente, dici? Prima invece cercavo di evitare quel genere di situazione. Assolutamente. La cosa che dici mi fa, mi viene in mente una cosa stra interessante che è un po' legata anche alla percezione che abbiamo noi dei tipi di personalità, magari, e del fatto che sia positivo o negativo essere estroversi o introversi. Cioè, a livello, sulla carta, diciamo, il mondo del lavoro e il mondo delle relazioni sociali è degli estroversi. Cioè, a meno che non stiamo parlando magari di una professione un po' più isolata, tra virgolette, come quella dello sviluppatore, ad esempio, però se tu sei in grado di avere una buona parlantina, essere proattivo, capace e carismatico nelle relazioni sociali, ti vendi molto meglio nei colloqui di lavoro, nelle riunioni o magari nei progetti in cui c'è da decidere qualcosa, dai molto più, hai un impatto maggiore. E nelle relazioni sociali di tutti i giorni, facendo amicizia e contatti, essere estroversi e produttivi è fondamentale, no? Quindi l'estroverso tendenzialmente viene sempre visto come un po' il tipo di personalità positiva, no? Mentre l'estroverso viene tendenzialmente giudicato come quello un po' che dovrebbe aprirsi di più. Non so se è realmente così, perché magari uno che è estroverso lo fa per compensare delle altre mancanze o comunque perché non è in grado di restare da solo. Mentre l'estroverso tante volte viene giudicato come timido, sfigato oppure sulle sue, ma in realtà semplicemente trae beneficio, gode proprio, la sua personalità è fatta così, quindi magari se lo conoscessi meglio... Leggevo prima che ci informavamo appunto su questo, che poi gli introversi sono persone molto più riflessive, molto più portate a avere pensieri, mentre gli extroversi magari certe volte sono persone più immediate ma meno riflessive. Nel caso del business, come dicevi te, secondo me l'essere estroversi poi dipende molto da settore a settore, però premia, perché vuol dire essere più carismatici e il carisma sappiamo che attrae le persone, quindi... Esatto, esatto. Per me quello esatto è stato una necessità, io dico, però ne sono molto fiero perché so che in questo modo posso essere molto più... So che le opportunità vengono a me in modo molto più facile o io vado verso di loro, insomma, però è un discorso proprio di catturare opportunità e nel mio caso in cui appunto sono responsabile del mio lavoro è un fattore molto molto importante. Certo, ma poi secondo me, riagganciandomi a questo discorso qua del giudizio verso gli introversi, è perché comunque tu hai una parte che tu di base dentro di te hai, magari non è la preponderante ma tu hai. Ci sono persone che veramente non ce la fanno, si sentono a disagio e questo tipo di propensione non ce l'hanno, quindi... E si tende a giudicarle male, no? Semplicemente invece sono persone che magari si dedicano, vogliono dedicarsi o dovrebbero dedicarsi a tipi di professione piuttosto che attività, piuttosto che modi di vivere più adatti alla loro personalità, ma senza essere giudicati come persone che sono schive, di poche parole, ma in un'accezione negativa, no? Perché, cioè, anche a livello proprio sociale, lasciamo perdere anche il lavoro, ma anche proprio a livello sociale, il stereotipo, il carismatico piace, cioè l'estroverso tende a piacere di più, a risaltare di più. Però è un po' brutto, no? Se ci pensi, per le persone che non lo sono. Eh no, è vero, assolutamente. E questa cosa tra l'altro la noto molto nei giovani, a parte per la mia esperienza personale, ma proprio anche con i ragazzi a cui ho fatto un piccolo corso di fotografia. Ho notato tantissimo questa cosa. E cercare di, appunto, essere... cercare di farli diventare anche loro propositivi è stata una gran fatica, ma mi sono rivisto tantissimo in questo. Quindi credo che anche poi l'età in questo aiuti tanto. L'adolescenza è una parte in cui... Correggimi se sbaglio. No, no, no. Sai cosa mi fa venire? Tipo, proprio sempre sullo stesso discorso. Secondo te, quant'è un po' cercare di farli diventare produttivi e in questo, in un certo senso, magari cercare anche di cambiarli in qualcosa che magari non sono? No, esatto. E quanto è essere... cercare di capire come prenderli nel verso giusto? Esatto. No, no. Ho sbagliato. Non so se io cerco appunto di fare... No, no. Non è sbagliato perché un po' invogliarli è interessante, però cercare di capire come funziona. Esatto. Cerco di medesimarmi e di cercare di capire cosa può interessarli maggiormente. Quindi in realtà è una questione tutta di approccio perché una volta che si sentono, secondo me, a loro agio poi si aprono anche molto più facilmente. A me fa venire in mente la puntata che abbiamo appena fatto con Irene sull'istruzione dell'importanza dell'empatia negli insegnanti, no? Di quanto magari uno, anche come approccio per dirti... per dirti magari io posso essere estroverso o proattivo verso una materia che mi viene facile e molto introverso. Per dirti, se parliamo di matematica, se sei stato introverso, non mi ha mai visto di propormi per andare alla lavagna. Questo discorso è un'ottima introduzione a quello che volevamo dire, nel senso che non esiste solo estroverso e introverso come categorie stagnanti, ma ci sono diverse sfumature su cui tra l'altro tu sei molto più preparato, quindi ti lascio. No, semplicemente ho letto un attimo di più, ma innanzitutto, prima di entrare un po' più nel dettaglio tecnico e noioso, a me piace questo discorso dell'ambiverso. Non so se è una cosa che è avvenuta fuori da poco o c'è stata sempre, però un po' un mix, no? Uno può sentirsi, come dicevamo prima, estroverso in certe situazioni e introverso in altre, o semplicemente molto estroverso e quindi fa tante cose e poi dopo esserlo stato per troppo tempo ha bisogno un attimo di proiettarsi verso l'interno. Ma io mi ritrovo tanto in questa cosa, anche per il lavoro ovviamente deve essere sempre molto proattivo, molto estroverso, però ho dei momenti in cui mi rendo conto che farmi il giretto in montagna da solo e starmene per i fatti miei, non cercare interazioni o un periodo in cui comunque rallento è insito in me, quindi come dici te ci sono, possono essere dei momenti o comunque delle sfumature. Esatto, esatto, perché se lo dividi troppo, per capire un po' meglio come funziona il discorso di essere introversi o estroversi, io ripropongo sempre un aneddoto bravo che avevo sentito da Simon Sinek, che è un famoso speaker americano, molto bravo, che ha scritto un sacco di libri, non solo di psicologia ma anche di tutti i temi legati alle interazioni sociali, e diceva se tu sei un estroverso è come se iniziassi la giornata senza monete. Tu esci, hai delle interazioni sociali e ogni interazione sociale ti dà una moneta, ti dà un'energia, una vita diciamo, se stiamo parlando di Super Mario. Alla fine della giornata tu sei pieno di soldi, sei pieno di monete, sei felice, sei contento. Se tu invece sei un introverso, inizi la giornata pieno di monete, pieno di soldi, vai fuori e ogni interazione sociale, ogni scambio, ti fa perdere, ti fa pagare un soldino. Alla fine della giornata sei senza soldi, sei scarico, hai bisogno di ricaricarti e se tu pensi a questa analogia capisci effettivamente che funziona così perché una persona estroversa ha bisogno di prendere, una persona estroversa, una persona introversa viene preso e quindi ha bisogno un attimo di riprendere. Però, tipo io, ma anche tu, come mi dicevi, ci sentiamo così a fasi alterne, quindi non è neanche che funzioni per tutte. Partendo da questo presupposto, quello che io ho capito leggendo un po' in giro, poi psicologi, psichiatri, esperti del settore ci correggeranno, ma non siamo qui per essere perfetti, è che il discorso legato ai tipi psicologici, quindi della personalità, è stato concepito in maniera un po' più definita per la prima volta da Carl Gustav Jung, che era uno psichiatra molto famoso tedesco. Metterò la musica di Piero Angela qua come sottofondo. Carl Gustav Jung è un importante, è stato un importante, cazzo ti prego a fallo, ha pubblicato sto, lo chiamerò libro, banalmente, chiamato i tipi psicologici nel 1921, in cui dà un posto a concezione dell'introversione e dell'estroversione. Cercherò di parlare più piano possibile perché ho una tendenza a parlare molto velocemente. Praticamente, lui cosa dice? Il concetto di base è che un estroverso ha una forza primaria che è tendente verso l'esterno, quindi verso l'oggetto, dice lui, il mondo esterno, le persone, le cose, quello che ci circonda, mentre un introverso ha una forza primaria tendente e diretta verso il soggetto, quindi l'interno, quindi la riflessione e lo stare con se stessi. Su questo lui prende, come dicevamo esattamente prima, lui prende spunto dalla concezione di, ah no, questa era la concezione di Freud, la concezione della forza primaria l'aveva messa appunto Freud. Sulla base della teoria di Jung, dei tipi psicologici, se non sbaglio, partendo dal secondo dopoguerra, e poi è stata pubblicata, se non sbaglio, tra il 60 e il 70, nel 60, due ricercatrici, madre e figlia, esatto, due ricercatrici che non farò finta di ricordarmi da dove sono e che età avevano, chiamate Myers e Briggs, da cui prende il nome questa cosa, hanno creato l'indicatore di personalità Myers-Briggs, definito anche MBTI, è la sigla, con il quale praticamente hanno definito, basandosi su questa teoria, quindi non è una cosa super scientifica, definita, provata, per seguire questo tipo di schema bisogna conoscere e basarsi sulla teoria di Jung, quindi non è Vangelo, però è molto molto interessante, almeno dal mio punto di vista. E questo indicatore quindi, sulla base dei questionari psicometrici con i quali tu rispondi a delle domande e quindi dai un'indicazione di come la pensi, come la vivi tu, una sorta di test, una sorta di test, definisce 16 possibili tipi di personalità. È una sorta di matrice comunque, quindi è una sorta di matrice, che incrocia diversi parametri. Esatto, che individua quattro diverse caratteristiche fondamentali che possono presentarsi in maniere diverse. È un po' complicato da spiegare a voce senza avere qualcosa di visuale davanti, però praticamente... Per noi è stato... È stato un casino, perché è un po' complicato. Due studenti che prima della maturità si chiamano, prima del compito per confrontarsi. Ma tu hai capito così, ma... Esatto. Anche se il podcast non è in diretta, è difficilissimo copiare, poi ve ne accorgete, quindi non è così. Vabbè, praticamente, poi se volete saperne di più, ovviamente metteremo tutti i contenuti sul canale Telegram, quindi un ulteriore invito ad iscrivervi per saperne di più, su delle dicotomie. La prima dicotomia è quella appunto a estroversione-introversione, quella di cui abbiamo parlato prima. Oltre a questa dicotomia, poi ce ne sono altre tre, quindi un totale di due, quattro, sei. Altre quattro? Sono quattro. Quattro per quattro, sedici come le... Sedici, esatto. Sedici, possibili tipi di personalità. Eh, mi sono un po' incartato che adesso devo... Quella estroversione-introversione... Allora, fondamentalmente ci sono delle dicotomie, che sono appunto queste caratteristiche della personalità, con i due opposti ovviamente, quindi abbiamo estroversione-introversione, abbiamo sensitività e intuizione, abbiamo ragionamento e sentimento, e giudizio e percezione. La combinazione di queste dicotomie dà appunto dei tratti della personalità. Ora, andiamo o proviamo perlomeno a cercare di approfondirli nelle quattro caratteristiche. E allora, estroversione-introversione. Diciamo che gli estroversi sono persone portate più all'azione, mentre gli introversi quelle più alla riflessione, ai pensieri. Come dicevamo prima, uno verso l'esterno, uno verso l'interno. Esatto. Gli estroversi cercano conoscenze ad ampio respiro, mentre gli introversi ricercano la profondità. Sono persone più riflessive, come abbiamo già detto. E estroversi spesso preferiscono frequenti interazioni, come è ovvio, mentre gli introversi poche, ma di sostanza, di qualità. Poche ma buone. Esatto. Di nuovo, gli estroversi si ricaricano passando il tempo in mezzo alla gente, mentre gli introversi stando da soli. E questo è chiaro. Niente di nuovo. Ora passiamo un po' al discorso della sensitività e intuizione, cioè come apprendo informazioni dall'esterno, giusto Matte? Esattamente. Sensitività si basa sui cinque sensi, quindi sulle informazioni che ci arrivano dall'esterno, mentre intuizione su regole meno scritte, ma più sulla sensazione di quel momento. Esatto. Praticamente questo è un discorso basato su come percepiamo le informazioni del mondo esterno. Quelli dal lato più sensitivo, quindi della sensitività, si basano su esperienze concrete, su quello che gli succede, e sono un po', tra virgolette, dei Santomaso, se non vedo non credo. Mentre dal lato dell'intuizione sono più persone che tendono a farsi trasportare dal flusso delle cose, dalle regole generali della vita e della natura, e quindi prendono, recepiscono le cose in maniera più intuitiva, anziché empirica, diciamo, da quel punto di vista lì. Poi c'è ragionamento e sentimento, che invece riguardano il modo in cui una persona prende le decisioni. Quelli con il ragionamento tendono a valutare di più, essere più logici, analitici, e pensare alle conseguenze delle loro azioni prima di agire, mentre quelli più legati al sentimento tendono a agire distinto, di impulso, seguendo un po' il cuore, senza curarsi tanto poi di quella che è la conseguenza delle loro azioni. L'ultima dicotomia, quella legata più invece allo stile di vita, è la dicotomia giudizio e percezione. Quelli che definisce più che altro il modo in cui scegliamo, tra virgolette, coscientemente di operare, quello che proiettiamo verso l'esterno, che facciamo vedere agli altri. Quelli che preferiscono il giudizio tendono a essere definiti come più logici, un po' più pragmatici, diciamo, nella loro maniera di essere, mentre quelli che preferiscono la percezione tendono ad essere più empatici, più astratti, e meno legati alla razionalità. Quindi tendono a lasciare più aperte le decisioni, diciamo. Questo è una panoramica più o meno generale del discorso. Sì, un bello schema introduttivo. Ora farei un bellissimo salto all'interno di queste dicotomie, parlando anche di noi, come la nostra visione. Nel senso, beh, la parte dell'introversione e estroversione l'abbiamo già vista, però secondo me anche sensitività e intuizione, come la vivita, per esempio, come prendi te le informazioni. Quindi sei una persona a cui piace più affidarsi all'intuizione o più alla sensitività? So già la risposta. Sì? Io no, quindi vuoi me la direi tu. Dimmi tu la tua risposta su di me e poi ti dico la mia. Allora, secondo me tu sei una persona molto basata sulla sensitività, nel senso l'intuizione ce l'hai, ma ogni tanto ti preoccupa o ti fai... cerchi di dargli delle regole. Cioè, prendi l'intuizione e cerchi di dargli delle regole. Quindi sei una persona più basata sulle regole, su quello che ti circonda, appunto, su degli schemi. Non so se ti rivedi in questo. Sì, mi rivedo abbastanza, nel senso che quello là è legato al... Mi vedo di più così nel discorso invece legato a ragionamento e sentimento, quindi che è la maniera in cui prendo le decisioni. Però anche lì c'è un po' di verità. Cioè, io sento che certe cose funzionano senza un perché e mi piace essere in questo flusso di non dover dare per forza nome alle cose. Però la mia parte insita, intrinseca dentro di me, quella parte innata di me che non controllo, tende a farmi razionalizzare sempre le cose, a dare una spiegazione alle cose, a incasellarle anche. che questo è successo per questo motivo qua, se è successo questo vuol dire questo. Quando invece la vita tante volte ti spiega che ti fa rendere conto... Mi riacchia tantissimo a questo, nel senso che è un discorso che mi è venuto in mente che... mentre parlavi, che spesso siamo... ci affidiamo anche alle regole, agli schemi, perché ci danno... Sicurezza. Una tranquill... Una sicurezza. E quindi quando siamo fuori dalla sicurezza, quando dobbiamo magari affidarci all'intuito, quello che sentiamo magari, perché certe volte pensiamo che una cosa sia giusta, perché tutti hanno fatto così, è perché è uno schema, e questo ci dà sicurezza al... fare l'università, al sposarci, al fare figli, al fare la famiglia, al comprare la casa, che non dico che siano sbagliati, però... certe volte... sono degli schemi. Devi aprire? Sì. Vai, apri. Questo è quello che succede quando stai registrando un episodio e... arriva Amazon e quindi Matteo deve lasciare la stanza. Sì, che questi schemi spesso sono... sono regole che ci dà un po' la società o le persone che ci circondano in modo diretto o indiretto, nel senso che vediamo degli esempi e pensiamo che siano delle... delle cose giuste senza poi magari interrogarci per capire se sono delle cose in cui ci ritroviamo. Esatto, esatto. Sai cosa mi fa venire a mente sta cosa qua? Che, scusami, lo schema fondamentalmente è una cosa che ci dà sicurezza. Cioè rispettare delle cose senza dover preoccuparci o fare lo sforzo di uscire appunto dalle righe. Dall'ischemi, sì. È una fatica e quindi spesso la sicurezza ci fa rimanere su quelle che sono le decisioni degli altri, tra virgolette. Esatto, perché sono degli schemi sicuri nei quali conosciamo più o meno l'esito, no? Difatti, guarda, questa cosa mi fa molto sì nella testa perché anche relativamente a delle cose che sto vivendo io in questo momento mi rendo conto di quanta paura ho di uscire da certi schemi. L'ho già vissuto per il discorso legato appunto all'aprire la partita IVA e a cambiare un po' il modo in cui lavoravo. Però anche negli altri aspetti della vita ci sono cose... Gli schemi predeterminati non sono per forza sbagliati però non per forza sono fatti per noi e per capire se sono fatti per noi dobbiamo per forza uscirne solo che uscirne come hai detto giustamente tu fa paura però se tu non ti dai la possibilità di uscirne e di restare in quella sorta di incertezza che ti è data dall'uscire dallo schema perché non sai in che altro schema ti sei buttato o magari ti sei buttato in un non schema e non puoi mai capire se c'è dell'altro. Nello specifico stiamo parlando della sfera emotiva credo della sfera sentimentale spoiler se non si può dire in generale in generale non è necessario direi non è necessario però sì assolutamente sì tu invece da questo punto di vista qua come ti vedi su sentitività sono sempre nella continua lotta su queste cose questi questi ultimi anni mi hanno aiutato a cerco sempre di andare contro delle regole e di interrogarmi ad interrogarmi molto questo ultimo periodo sicuramente l'ho fatto molto di più ho cercato di dire ok essere sincero guardami allo specchio e capire effettivamente quali decisioni fossero fatte effettivamente per me e quali invece effettivamente erano decisioni che prendevo per rimanere in determinati canoni o far contente alcune persone e e niente è stato un lavoro anche perché poi interrogarsi fa fa paura e è molto faticoso e credo che anche in questo la terapia è quello che facciamo qua a pensa che ti passa esatto anche la terapia mi abbia dato degli strumenti per per guardare meglio queste cose e tra l'altro potremmo fare una bella puntata sulla è un invito che che faccio in realtà un po' a tutti quello della apriamo questa parentesi della terapia perché non è un percorso che viene fatto perché sei sbagliato perché c'è qualcosa che non va ma è solo un percorso che ti dà degli strumenti perché non siamo preparati nessuno ci prepara secondo me a tantissime cose e dei professionisti che sanno come funziona il cervello e come funzionano delle situazioni possono darti gli strumenti che possono disinnescare o o migliorare delle situazioni in un attimo dove magari te autonomamente dovresti passarci facendo disastri o sbattendoci la testa numerose volte facendo degli errori più grandi più grandi quindi esatto chiudendo questo io cerco sto cercando di interrogarmi molto ecco quindi quella della sono molto portato anche alle regole perché mi piacciono gli excel tutte queste cose qua allo stesso tempo mi sto cercando di allontanare e cercare di seguire un po' più l'intuizione quello che quella cosa di pancia quella bravo lavorare un po' più di pancia io ti volevo chiedere questo tu quando prendi delle decisioni le prendi più dal punto di vista razionale o più di pancia tutti e due dipende molto dalle situazioni sono delle situazioni in cui veramente non ci vengo fuori che faccio delle liste pro e contro e altre invece qui svuoto il cervello e dico ma effettivamente ciccio cosa che senti e quello nel 90% dei casi è la risposta anche per i lavori dico quando sei convinto di una cosa tendenzialmente la senti la senti tua senti che c'è questo sentimento che ti trasporta però fa fatica ascoltarsi perché poi la nostra testa è portata veramente spesso a viaggi infiniti voli pindarici incredibili di cui sono campione olimpico però vorrei uscire un po' dal seminato riprenderai un po' le dicotomie quindi abbiamo fatto estroversione introversione sensitività intuizione e adesso c'è ragionamento barra sentimento che in realtà esatto l'abbiamo appena fatta adesso c'è la parte del giudizio della percezione anche quella l'abbiamo già fatta giudizio percezione sì sì prima ti ricordi abbiamo fatto leggiamocelo che è difficile sì ma le nostre ah tu dici dal punto di vista nostro non mi ero preparato allora giudizio percezione quindi come ti mostri all'esterno cioè tu ok tu all'esterno secondo te e scegli come scegli di mostrarti e come secondo te ti mostri cioè come ti vedono gli altri nella maniera in cui ti comporti secondo me potresti iniziare te così capisco bene la domanda allora sulla dicotomia giudizio percezione è un po' come scegliamo di consciamente di comportarci e come anche appariamo agli altri appariamo si dice vabbè sono dimenticato l'italiano agli altri io tendo ad apparire molto appunto empatico molto poco logico analitico molto confusionario tra virgolette molto molto estroverso ma proprio all'estremità dell'estroversione diciamo a livello di percezione che do agli altri quando poi invece dico che io mi sento anche molto timido molto insicuro a certe cose persone che non mi conoscono in maniera più approfondita si sorprendono perché dicono ma tu impossibile sei quasi un fenomeno di difatti mi ricordo questo discorso anche quando quando ne parliamo io ti dico comunque sei una persona comunque mediamente estroversa e tu stranamente non ci credi ma io ti assicuro che le persone introverse sono tutt'altro sì per quello è vedi per quello difatti questo indicatore di Myers Briggs ne definisce 16 quindi volendoci credere perché comunque bisogna un attimo crederci e applicare la teoria che viene fatta ci sono tante sfaccettature quindi questo potrebbe essere una spiegazione più logica uno potrebbe essere molto estroverso per un tipo di frangente molto introverso per altre misto per altre eccetera eccetera tu invece come ti senti tu e come senti di essere percepito da questo punto di vista allora io mi reputo comunque una persona estroversa e credo che si possa percepire anche da fuori nel senso che ti ripeto anche il lavoro mi ha portato a questo anche durante il lavoro gli eventi o comunque cerco di essere sempre un po' positivo di indole comunque sono introverso nel senso che ci sono delle situazioni in cui magari non ho voglia di buttarmi o chiedere alla persona sai vedi per strada quello che conosce non sempre sono sempre molto proattivo però comunque mediamente io credo di essere estroverso e credo che anche all'esterno appunto mi vedano così anche il fatto del lavoro il fatto di parlare poi con tante persone avere tante relazioni col mondo esterno secondo me ti porta ad una sicurezza che almeno adesso ho fatto mia quindi non sento più quell'introversione perché è anche una questione di esperienza no? esatto sì 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 assolutamente di fatti tante volte secondo me si tende a confondere la l'introversione con la timidezza o l'inesperienza che effettivamente sono due cose diverse perché tu puoi essere eh ma timidezza e l'inesperienza portano all'introversione secondo me può essere non ho capito cioè in esperienza ah in esperienza sì però è però se tu la vedi dalla parte opposta tu dici è proprio per il fatto che io sono inesperto che sono un po' più timido ed introverso più faccio esperienza più vado avanti più questa cosa cambia però non è che io sia introverso di base no? è che semplicemente sì no non è ma credo che siano delle caratteristiche che non sono delle caratteristiche stampate quindi sono la mia idea è quella che comunque si possa fare un percorso all'interno di questa matrice 4x4 cambiando vari aspetti e tra i volete correggendone o navigandoci insomma sono cose su cui si può assolutamente lavorare assolutamente lavorare esatto e su questo mi viene a dire riprendo il concetto a noi super caro della consapevolezza riagganciandomi a quello che dicevi sulla terapia anche a me la terapia ha aiutato tantissimo e mi sta aiutando a non tanto cambiare modificare delle parti di me che non vanno ma a capirle no? perché tu magari dici boh sono così sono colà o la gente mi percepisce ma non non hai gli strumenti per capire fino in fondo come funzioni no? e quindi andando a snocciolare le cose che ti sono successe il modo in cui vedi le cose preso e riproposto da una persona che sa come riproportelo ti può aiutare anche a capire meglio effettivamente tu come sei non solo in relazione agli altri ma anche in relazione a te stesso a te stesso no no è l'analisi secondo me dei tuoi comportamenti la cosa più più bella perché ritrovi degli schemi su quello che fai di cui non te ne sei banalmente mai accorto esatto e sì e questo poi appunto ti aiuta anche in questa circostanza o in questo tema dell'introversione o del stare con te o stare fuori esatto ti può appunto far capire molte cose e farle evolvere esatto e poi sai cosa secondo me anche ti aiuta un attimo oltre che a prendere consapevolezza a dare più fluidità ai concetti nel senso uno tende magari a dire ah sono introverso sono sbagliato ah sono estroverso sono un figo o comunque a dover dare sempre sai una definizione precisa invece più ti conosci più ti rendi conto che come esseri umani siamo tutti le nostre personalità sono abbastanza fluide e in continuo mutamento quindi più ti conosci più riesci a capire come funzioni tu non in che schema cadi tu ma come funzioni tu punto senza doverti dare un'etichetta e poi il fatto che comunque cambi cambi col passare l'evoluzione stavo per dire la stessa cosa cioè non credo sono sempre meno convinto della persona come essere statico come essere statico ma comunque come essere umani in continuo mutamento e anzi se non c'è mutamento secondo me a certe volte ci sono delle cose è un campanello d'allarme ecco il non mutamento se non cambi tendenzialmente perché sei sempre in situazioni sempre con persone e quindi deve credo si debba esserci comunque un un percorso vuoi o non vuoi assolutamente anche il lavoro ti porta a far cose questa è la mia la mia la nostra idea credo assolutamente io direi che più o meno ci siamo ci siamo abbiamo fatto un bellissimo percorso su questo tema dell'introversione dell'estroversione che può essere riassunto anche come ci poniamo con noi e come ci poniamo fuori speriamo che le nostre esperienze possano anche riflettere quelle di altri ma vi invitiamo nuovamente a darci le vostre idee le vostre sensazioni sia su telegram che trovate tra l'altro in bio al nostro instagram e poi ovviamente in dm su instagram chiaramente invitiamo se ci sono degli esperti all'ascolto a correggere eventuali cazzate che abbiamo detto perché siamo sempre pronti noi non non pretendiamo di dire le cose in maniera perfetta però ci sembrava interessante approfondire questo discorso qua anche per per stimolare un po' la vostra curiosità ma anche magari tramite instagram e telegram come diceva Tommy per per sapere la vostra come la vivete voi questa questa dicotomia tra estroversione e introversione come vi sentite e se ci avete mai pensato tra l'altro spoiler faremo il test io e Tommy e vi sveleremo che tipo di personalità abbiamo secondo l'indicatore di Myers-Briggs così e metteremo quindi come risorse sia la pagina wiki da cui ci siamo ispirati con tutta anche la matrice di cui abbiamo parlato fino adesso e anche i diagrammi e anche poi magari il link per fare il test esatto esatto per fare il test e vedere anche un po' voi ci sono anche un sacco di video youtube che parlano dei singoli tipi specifici della personalità che potete andarvi a vedere poi magari ne metteremo qualcuno però dai è un tema figo che andava trattato I think that's it ci vediamo la prossima volta con un episodio con un tema che ci in realtà ci vede anche questo da vicino che è marketing versus etica quindi questo bellissimo confronto lo faremo con un ospite in realtà che abbiamo già avuto e niente alla prossima ragazzi alla prossima